e beh ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi sto portando di nuovo un video riguardante gli squad builder ho visto che l'ultimo video che ho fatto quindi qualche una settimana fa quasi riguardante appunto la serie a mi è piaciuto molto quindi probabilmente riporterò il format campionato progressivo partendo da una squadra basic per poi andare a upare via via sempre con più crediti penso di riportarla ovviamente fatemi sapere nei commenti magari quali altri campionati vi interessano io pensavo di portare un video riguardante la premiere la liga la leganna ovviamente i top campionati ripeto fatemi sapere quale che volete vedere il prima possibile ma oggi siamo qui per sempre un video riguardante che badisco gli squad builder ma delle ibride ibride con vari budget scelto tre budget 250 mezzo milione e un milione di crediti secondo me sono tre budget che più o meno per inizio gioco vanno bene dovrebbe non male esaudire un po tutti i budget che voi possiate avere immagino che c'è poca gente che ha più soldi di un milione di crediti quindi siccome questi tre budget sono precisi e sono tre squadre secondo me buone per ovviamente affrontare la vl sono squadre molto competitive anche se piccolo inciso e poi continuiamo con il video la vl quest'anno devo dire rispetto all'anno scorso almeno secondo me mi è sembrata un po più facile sarà che ci sono meno partite sarà che a volte le persone fortunatamente regalano anche delle partite a me visto che me le hanno regalate al primo minuto si sono fatte autogol e mi hanno dato una win quindi mi è sembrato un po più easy rispetto agli altri anni ma nonostante ciò comunque mi sento di consigliarvi queste tre squadre per affrontare la vl al meglio così probabilmente bestemmerete meno almeno il meno possibile ecco quindi direi di iniziare con il video passiamo su footbin per la prima squadra bene eccoci questo footbin partiamo dalla prima squadra quella da 250.000 crediti modulo di partenza ho scelto di utilizzare un 4-5-1 per ibridare la squadra ovviamente poi in game scegliete quello che più vi piace io questa squadra è creata e pensata su un 4-4-2 o un 4-2-3-1 in game quindi ci sono due centrocampisti due esterni e due punti un appunto un trequartista poi scegliete voi quindi questi sono i moduli diciamo che su cui poi questa squadra poi si è andata ad utilizzare partiamo dalla difesa coppia di difensori centrali di questa squadra troviamo due francesi tra i più forti secondo me del gioco che comunque il gioco ci mette a disposizione subito a parte che non so scrivere il primo è Kondé e il secondo è Kimpepe devo dire che in questi giorni Kimpepe dovuto forse anche al fatto che la gente ha tirato su un bel po' di crediti dopo la VL si è salito tanto stava 40.000 qualche giorno fa 58.000 adesso infatti ho dovuto anche risistemare questa squadra per farla costare 250.000 perché l'avevo fatta qualche giorno fa per poi registrare oggi il video ma in questi due giorni i prezzi sono saliti tanto soprattutto di giocatori più forti più meta e ho dovuto sistemare qualcosina e lo vedrete in realtà subito perché il terzino che andremo a utilizzare è Sanusi vedete perché Sanusi? per andare ad ilbridare l'esterno sinistro che è un esterno che ho provato in questa VL e vi assicuro che è fortissimo Luis Dias if per 13k difficilmente permetto delle esterni migliori di Luis Dias 4 di skill 4 di debole 93 di velocità e nello specifico 93 di accelerazione e 93 velocità scato quindi è preciso è un vero 93 forte nel dribbling ottimo tiro ve lo consiglio la squadra inizialmente comprendeva più che Sanusi Vendelif però con Vendelif sforiamo il budget Sanusi è molto veloce datele un sentinello un'ancora e secondo me è un ottimo terzino sinistro lato di destra invece troviamo Navas troviamo Navas, Jesu Navas perché Navas? perché in realtà serve così la squadra andrebbe girata in questo modo con il doppio link tra Kunde e Jesu Navas in questo modo avete sia Kunde che Jesu Navas a fuori intesa Jesu Navas poi vabbè mentre per quanto riguarda ovviamente il portiere andiamo ad utilizzare un altro francese mi ero scordato del portiere in realtà ho visto il buco mi sono ricordato andiamo ad utilizzare uno dei portieri che secondo me è più buggato nel gioco anche se è a tappo i portieri in questo gioco tutti fanno i miracoli però io mi sono trovato molto bene in questi primi giorni di FIFA con Mike Magnon andiamo ad utilizzare lui tranquillamente in porta a meno secondo me costa poco e affidabile ripeto soprattutto costa poco per questa tipologia di budget di squadra passiamo ai centrocampici centrali il primo il seguente Renatino Sanchez costa 6.800 anche lui è calato tanto in game performa sempre bene vi consiglio di provarlo con Anquera molto molto forte o addirittura anche Ombra se volete uno dei centrocampisti più veloci del gioco praticamente insieme a Llorente e l'altro centrocampista e un centrocampista che è uscito in questo team of the week sono rimasto piacevolmente sorpreso soprattutto su Anandar da utilizzare con Ombra molto veloce grossi in game e anche agile in campo nel muoversi mi sembra o mi ricorda una specie di che si in game quindi molto molto forte soprattutto costa veramente poco per concludere la squadra andiamo a prendere l'esterno destro che è uno degli esterni cioè non c'è niente da dire Rosmane Belè ripeto lo conoscete tutti 5-5 straforte strabuggato quest'anno le skill contano perché inizialmente nei primi geni di FIFA sembrano non contassero le skill ma a man mano che sono andato avanti nel giocare le skill fidatevi contano tanto quindi gente col 5 di skill bisogna avere almeno uno o due nel team bisogna averli per forza e per completare la squadra mancano solamente adesso i due attaccanti sono due attaccanti sempre della Liga il primo era anche lui insieme a Smane Belè il bug per eccellenza ogni anno che è Bayadar, Wilson Bayadar e il secondo anche lui è un if uscito in questo team of the week che è David If che ha presionato due versioni speciali perché sarebbe l'if con la stellina molto forte insieme a Bayadar Entramia nel 5 di Devil e Bayadar anche al 4 di skill infatti vi consiglio di provare magari Bayadar trequartista in un 4-2-3-1 David Punta o Smane Belè gli as esterni e avete sicuramente una squadra molto molto forte su 4-2-3-1 Bene, passiamo al secondo team del video squadra da 500.000 crediti anche qui ibrideremo i classici giocatori più forti ovviamente a questo giro useremo i giocatori più forti del team precedente anche se alcuni giocatori rimarranno gli stessi proprio per una questione di link che all'interno di questo gioco purtroppo è una cosa che vi bisogna dire ci sono veramente pochi giocatori forti e sono sempre quasi sempre gli stessi giocatori e soprattutto con budget piccoli e minori si tende a utilizzare, ripeto, sempre le stesse carte che ora andremo a vedere per appunto partendo dalla porta anche qui andremo a riutilizzare lo stesso portiere che abbiamo utilizzato prima che è McMagnon in realtà ci sarebbero anche altri portieri che si potrebbero utilizzare francesi però costa poco per me è affidabile quindi vi consiglio Magnon poi potreste anche mettere Lloris La Fontif cioè c'erano tante carte che si potrebbero andare a mettere io metto Magnon perché costa poco ed è forte coppia di difensore centrale anche a questo giro andremo a riutilizzare con D ma questa volta non andremo a mettere Kim Pepe ma andremo a utilizzare Lacroix è molto forte anche su Lacroix mi sento di dire ve lo consiglio sicuramente l'avete trovato contro sapete che cos'è e come si comporta in game molto molto forte super veloce grosso in game difensore topo per appunto e terzino destro terzino sinistro a sinistra vi consiglio Roussillon infatti Pé vi consiglio di andare a girare i due in game e a destra vi consiglio di mettere Mindy sì costa tanto ovvero costa 130.000 ve lo consiglio comunque io l'ho utilizzato anche a 7 nell'ultima WL si comporta come a 10 quindi ve lo consiglio a destra ed in questo caso giocherebbe anche molto bene visto che ha 5 di debole Mindy quindi non ha problemi a giocare sulla fascia di destra e vi serve vedere anche il doppio link ovviamente a Conde passiamo agli esterni il primo esterno che vi vado a consigliare sulla sinistra è Marcus Rashford mentre il secondo esterno che vi vado a consigliare sulla destra è Gerson Martins entrambi i 5 di skill vi ho già detto cioè prima perché vi consiglio e vi raccomando di avere almeno nella squadra almeno ribadisco 2 o 3 skiller perché fanno la differenza quest'anno visto che le difese sono super compatte in più non ho scoperto pure un bug che su altri team si può giocare con la difesa assistita e non sul manuale quindi diventa veramente superare è veramente difficile cioè superare l'1v1 gli avversari servono per forza 5 skiller all'interno del team che vi saltino l'uomo l'avversario nell'1v1 soprattutto per quanto riguarda i due centrocampisti che vi vado a consigliare il primo è Bruno Fernandes il centrocampista offensivo della squadra e il secondo è sì sempre lui Tuo Quameni o come si pronuncia molto forte ribadisco di nuovo ve lo dico su Tuo Quameni provatelo con ombra Brunello Brunello raga lo conoscete fortissimo soprattutto in fase offensiva in fase di spinta vi aiuterà tanto nelle azioni offensive a creare cioè superiorità numerica e per chiudere questa squadra andiamo con due dei giocatori ribadisco più buggati del gioco il primo è Anthony e il secondo che ve l'ho già fatto vedere prima è Wissa Bayeder squadra da 489.000 crediti precisa per mezzo milione fortissima ovviamente per andare ad affrontare la VL bene signori siamo arrivati all'ultima squadra del video raddoppiamo nuovamente il budget arriviamo al budget di 1 milione di crediti a questo giro vi vado a consigliare il portiere del Real Madrid uno dei portieri più forti del gioco insieme a Donnarumma e Alisson almeno i tre portieri che più mi danno fastidio quando ne trovo contro non che gli altri portieri non facciano i miracoli ma l'altro 3 oltre a essere forti fanno anche i miracoli quindi fanno entrambe le cose sono cioè sono OP praticamente questi tre portieri mentre per quanto riguarda la coppia di difensori centrale il primo che vi vado a consigliare è Militao mentre il secondo è Gio Gomez qua devo dire su Gio Gomez stesso discorso che farò con qualche altro giocatore di questa squadra andrà subito Uppato e migliorato per una questione che quest'anno tipo Gio Gomez ad esempio non è buggato come l'anno scorso almeno secondo me è forte ma non è buggato come gli altri anni e vi consiglio di andare a sostituire con Van Dijk vedrete come poi con Van Dijk questa squadra funzionerà l'uguale avrà sempre 100 d'intesa e soprattutto Van Dijk starà a 10 d'intesa e quindi vi consiglio di fare queste migliori appena avrete un po' più di su di avete a disposizione per quanto riguarda terzini per quanto riguarda i terzini in questo caso dovremmo andare ad inserire Robertson che poi è il miglior terzino sinistro di Premier colgo quest'assist per dirvi come effettivamente quest'anno i terzini sinistri della Premier fanno molto vomitare cioè il più forte è Robertson il secondo più forte è Tellez gli altri sono inutilizzabili come Digne Luke Shaw e altri terzini del genere cioè ovviamente poca scelta quasi tutti non vanno quasi mai a comprare i terzini della Premier perché non sono effettivamente validi quest'anno infatti secondo me nel primo evento possibile la EA ci sparerà 6 terzini della Premier speciali sicuramente perché non ce ne sono di validi e in questo caso andremo per forza ad andare a utilizzare Robertson per questo neanche di intesa mentre per quanto riguarda la fascia di destra andiamo a inserire Dest If anche qui si potrebbe andare a mettere Mendiz adesso è scorso di Giacobbez quando avrete un po' più di soldi lo andate ad inserire coppia di centrocampisti qui ritroviamo un vecchio pupillo cioè quello il giocatore che abbiamo utilizzato nella precedente squadra che è Bruno Fernandes ma a questo giro andiamo ad utilizzare anche un altro centrocampista che è Frankie De Jong che io mi sento di raccomandarvelo molto forte sicuramente lo sapete che è molto forte ma vi consiglio di provarlo con Ombra io l'ho provato con Ombra e mi sono trovato benissimo ad utilizzarlo molto di più che con Ancora visto che De Jong in game è bugato fisicamente quindi non ci bisogna che glielo boost il fisico tanto è già rotto dateli Ombra è super veloce super reattivo super responsivo in game mi è piaciuto molto di più con Ombra che con Ancora chiudiamo a questo punto anche la parte di destra con Osmani Ambele 72k fortissimo 5-5 lo conoscete mentre per quanto riguarda ora la parte di sinistra direi di chiudere con una full Premier League e vi faccio vedere con chi ho deciso di chiudere questa squadra il primo è Sadio Meil Sadio Mane 7 di inteso ovviamente perché lo utilizzerete come centrocampista e lo andrete a utilizzare appunto all'interno di questa squadra come esterno sinistro ovviamente si potrebbe anche andare a utilizzare come prima punta insieme a un altro giocatore che vi vado a consigliare in base al modulo che poi scegliere se giocate con uno o con due punte ma se giocate con una sola punta vi consiglio di mettere poi Sadio Meil come esterno e la punta della squadra sarà Son 5 di debole fortissimo lui è per me la punta ideale da mettere in questa squadra e per chiudere questa squadra ovviamente mettiamo Martial costa poco budget come potete ben vedere un milione di crediti tutti full intesa a parte vabbè Dest e Mané che stanno a 7 ma giocano benissimo quando avete un po' più di soldi sostituite Gio Gomez e Dest con Mendy e Van Dijk e avete secondo me una squadra perfetta e niente signori questo video è finito se vi va ovviamente come al solito lasciate un like iscrivetevi al canale per altri video ovviamente simili o comunque anche altri tipi di contenuti che arriveranno sul canale seguiteli mi raccomando se vi va passate anche su Twitch perché quasi ogni giorno a parte del martedì e sabato streamo dalle 5 in poi mi trovate ripeto tutti i giorni tranne martedì e sabato e forse anche il sabato da qualsiasi settimana in poi quindi non lo so ma ripeto dalle 5 in poi venite a trovarmi anche su Twitch e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao